Il vettore picchia duro e Zavronok costringe Caligaro a rincorrerla e poi c'è il muro a 3 su l'UAT Candellaro già potrà cercare il Zavronok, la palla poi da Caligaro all'UAT che va a segno Tocca al muro, recupera il Zavronok al centro, anzi no, a laterale per l'UAT e palla sorpresa e ad effetto spiazza dal muro Ma corto, Goi non si fa sorprendere in questo caso, svezza, l'UAT dalla seconda linea Torniamo al terzo, quello che si sta giocando alla via Lamprup Arena, la recezione di Goi su Candellaro Ora preso di petto da questo attacco di UAT Caligaro sceglie l'UAT sul muro a 2 che non lo riesce a frenare Abbiamo l'azione, l'UAT riesce a generla il suo compagno di nazionale Grebennikov Poi il muro su Russell, decisamente più efficace, il gioco di Monza in questo terzo set Sul Lazio andrà a servizio, era concentrazione perché l'UAT trova l'Ace Caligaro per l'UAT, ancora il muro di Trento, ancora il giocatore francese Cebul va a cercare proprio lui, lo schiacciatore sloveno, poi Caligaro per l'UAT Sì, il Vila dappertutto, il Volco 4 francese Ciao! 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 Ciao!